Uno scontro frontale sulla provinciale 73 in direzione Soriano che non ha lasciato scampo a Giorgio Pistininzi, 29 anni di monasterace. Era alla guida di una punto nera, con lui la fidanzata, Aurora Zaffino, 24 anni di gerocarne, trasportata d'urgenza con l'elisocorsa all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro e in condizioni disperate. Lo scontro sarebbe avvenuto con un audio a quattro. Il conducente non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valencia che hanno effettuato i rilevi del caso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, che secondo una prima ipotesi sarebbe stato causato dall'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Da quanto emerso sembrerebbe che i due fidanzati stessero rientrando a Cosenza, dove lavoravano, lui come barista, lei al call center. Rosaria Giovannone per la Cineus 24.